Il mondo sta cambiando velocemente e i big del tech stanno puntando pesantemente su quello che potrebbe essere il futuro di internet. Addirittura Facebook ha cambiato il nome in vera per far capire quanto sia importante per l'azienda questo web 3.0. Siamo di fronte a una vera rivoluzione oppure i visori per la realtà virtuale faranno la fine dei floppy disk? Partiamo con un po' di storia per inquadrare la situazione. Era il 1989 quando nei laboratori di Ginevra del CERN nasceva il World Wide Web. Tim Berners-Lee, un ricercatore inglese impiegato al CERN, stava cercando un modo di rendere accessibili tutte le informazioni agli oltre 17.000 impiegati del centro. E quella che state vedendo è la prima pagina web della storia. Un po' scarna ma funzionale. Per farla breve, sempre più università del mondo si sono unite a questa rete e grazie all'arrivo del browser Internet Explorer di Microsoft, che nel mentre aveva messo un personal computer in ogni casa, nel 1995 la rete divenne veramente globale. Passano un po' di anni, nascono i motori di ricerca e i servizi di instant messaging cominciano a cambiare il modo di comunicare delle persone. Ma la vera rivoluzione arriva nel 2004, con la nascita di Facebook. Da Internet si passa a Internet 2.0. Le persone passarono dal semplice cercare informazioni su Internet ad interagire tra loro. Ed eccoci arrivati a oggi, con i visori per la realtà virtuale che sono stati il regalo più gettonato dell'ultimo Natale. Con una tecnologia che potenzialmente potrebbe di nuovo rivoluzionare Internet per come lo conosciamo. Web 3.0. Non solo ora potremo comunicare, ma potremo interagire come se fossimo davvero nello stesso luogo. Con persone che magari sono dall'altra parte del mondo. La realtà virtuale è una tecnologia che potenzialmente potrebbe davvero cambiare il mondo. Partendo dal mondo dell'intrattenimento, dove per esempio è già possibile assistere a una partita dell'NBA da bordo campo. Arrivando al mondo del lavoro, dove potenzialmente non sarà più necessario recarsi in ufficio. Visto che PC e telefoni saranno integrati all'interno di un visore. Tutti gli ambiti della nostra vita potrebbero essere rivoluzionati da questa tecnologia. Se non lo avete mai fatto, vi invito a provarlo uno di questi visori. Che sia un'esperienza in un mondo inventato, piuttosto che una riunione tra colleghi. Tutto è incredibilmente realistico e immersivo. Qualche mese fa ho organizzato un raduno nel metaverso. Ed è incredibile quanto sia stato realistico interagire con gli altri avatar. Ci siamo fatti anche un selfie. Sì, nel metaverso ho i capelli blu. Fino a qui tutto bello, ma a che punto siamo con questa tecnologia? La verità è che siamo ancora indietro. Se per fare un sito web bastavano poche righe di codice, per costruire un metaverso servono dei software potentissimi. E per utilizzare a pieno le potenzialità del metaverso servono computer molto potenti e connessioni ultraveloci. Inoltre non sappiamo ancora bene quale tipo di metaverso prenderà piede. Mi spiego meglio. Facebook, ora Meta, punta tutto sulla realtà virtuale. Ci si mette il visore, ci si stacca completamente dal mondo reale e ci si immerge nel metaverso. Altre realtà, come per esempio sembra stia facendo Apple, anche se non ne abbiamo la certezza, stanno puntando sulla realtà aumentata. Invece di staccarsi completamente dal mondo reale, la realtà aumentata è qualcosa che attraverso uno smartphone, piuttosto che degli speciali occhiali, aggiunge elementi digitali al mondo reale. Facciamo finta che vogliate provare un orologio, invece di andare in negozio potrete provarlo direttamente a casa vostra. Provate ad immaginare come potrebbe cambiare il mondo della formazione. Siete degli studenti di medicina? Potreste letteralmente vedere come sono fatti gli organi e le ossa, come se li aveste davvero davanti. Non sappiamo quale tipo di metaverso prenderà piede. Sappiamo solo che per costruire il web 3.0 serviranno software, hardware e servizi. Se vogliamo guadagnare da questo mega trend che sta nascendo, come al solito possiamo fare stock picking, scegliendo le singole azioni delle aziende attive in questo settore nascente. Oppure possiamo acquistare il Metaverse ETN DSG, che al suo interno contiene le 30 principali aziende che beneficeranno qualora il Metaverse dovesse effettivamente prendere piede. All'interno di questo prodotto abbiamo dei veri e propri colossi come Alphabet, che poi è Google, Meta ed Apple. Ma abbiamo anche delle aziende non direttamente coinvolte nel web 3.0, che però forniscono la tecnologia affinché questo settore possa effettivamente crescere. Stiamo parlando per esempio di Nvidia, la compagnia americana che ha inventato la GPU, un processore potentissimo che ha permesso alla grafica 3D di fare passi da gigante. Sempre in questo ETN troviamo Unity Software, l'azienda che produce uno dei pochissimi software al mondo per la costruzione dei metaversi. E Ambarella, un'azienda che applica l'intelligenza artificiale alla realtà aumentata. Insomma, 30 società che hanno le carte in regola per beneficiare della crescita del web 3.0. Un mercato che, secondo Morgan Stanley, potrebbe valere 8.000 miliardi di dollari. Questo che vedete qui è l'ISIN di questo prodotto. Tranquilli, trovate in descrizione del video tutti i dettagli ed il link alla pagina del prodotto sul sito dell'emittente.